Grosso modo un anno fa l'allora appena insediata amministrazione comunale di Albino guidata dal sindaco Fabio Terzi aveva riaperto al traffico via Mazzini, il centro storico del paese. E appunto passato un anno a che punto siamo? Siamo alla seconda fase, cioè quello di realizzare un arredo urbano funzionale a quella zona 30 che secondo noi è la soluzione migliore per la fruibilità, la vivibilità di via Mazzini del centro storico. Abbiamo fatto un incontro con i commercianti, con i cittadini per raccogliere i loro suggerimenti, anche le loro critiche. A questo incontro è seguito poi un sopraluogo, anzi più sopraluogui da parte dell'ufficio tecnico con assessori ai lavori pubblici e ai vigili per prendere quelle misure, l'ho chiamato un sopraluogo con bindella alla mano, per cioè davvero capire quali erano le problematiche soprattutto per i residenti di fronte a un arredo urbano che non limitasse quindi l'utilizzo dei propri portoni, l'accesso alle proprie proprietà, ai propri box. Queste misure sono necessarie proprio per capire quale che sarà la dislocazione dell'arredo urbano, rientranze, piazzette, voliere, pilastrini e compagnia bella di suosori traffico. Solo dopo aver raccolto queste misure, aver individuato quindi gli ingombri, i spazi di manovra, le raggiature nei pressi dei portoni, possiamo a questo punto andare a fare quel concorso di idee che abbiamo individuato come un'ottima soluzione, un'ottima idea per il progetto di questo arredo urbano. Un concorso di idee che ormai è pronto a partire e che speriamo veramente raccolga l'adesione di tanti professionisti, di tante energie, di tante forze con l'arrivo di molti progetti tra cui puoi scegliere quello migliore. Sarà ancora un percorso condiviso, partecipato perché è nostra intenzione poi nella giuria inserire persone che siano tratte tra i cittadini di Albino piuttosto che i commercianti, i professionisti e ovviamente anche i membri dell'amministrazione comunale. Ci vorranno alcuni mesi ovviamente per l'elaborazione dei progetti per cui arriveremo a autunno poi per valutare, analizzare e discutere dei progetti arrivati. Questa è la seconda fase indispensabile e fondamentale che accompagna poi l'apertura della via Mazzini come abbiamo sempre detto, come abbiamo sempre sostenuto calorosamente in campagna elettorale.